Si è svolto, presso il Convento San Francesco di Altavilla-Silentina, un interessante incontro dal titolo Sant'Antonio di Altavilla-Silentina, una riflessione su identità, memoria e patrimoni immateriali. La serata ha visto la presenza dell'antropologo, professor Paolo Apolito. È la memoria, la trasmissione intergenerazionale della memoria, questo è quello che importa. Non tanto l'oggetto della memoria, non tanto quello che si ricorda, che ha la sua importanza, ma soprattutto il fatto che una comunità abbia la stessa memoria, condivida la stessa memoria e che si trasmetta di generazione in generazione, perché questo dà un valore alla comunità, dà un sentimento di appartenenza alla comunità e quindi non avviene quel processo di disgregazione della comunità, che renderebbe pericolosa la stessa convivenza. Sentirsi appartenenti ad una memoria comune e trasmettere questa memoria di padre in figlio, di generazione in generazione, significa parlare, significa dialogare e significa riconoscersi appartenenti alla stessa memoria nel giorno della festa. Allora la festa non diventa solo un elemento di dissipazione, di divertimento, una perdita di tempo, ma diventa l'esaltazione di una storia lunga alle spalle che può diventare la base di un progetto comunitario di costruzione del futuro. E così la comunità fa il suo vaccino contro i rischi della disgregazione culturale e della perdita di senso della propria esistenza collettiva. Sì, sono molto importanti, a patto però che sviluppino il dialogo intergenerazionale e che quindi in qualche modo siano aperte creativamente alle novità. I giovani, i bambini entrano, intervengono con nuove istanze, con nuovi desideri, con nuovi sogni ed è giusto che si apra un dialogo con le vecchie generazioni e che le tradizioni in qualche modo si meticcino, cioè cambino assumendo altri valori, anche perché tutte le tradizioni in realtà sono meticce. Nessuna tradizione può vantare di essere nei secoli autonoma e autoctona. Abbiamo l'Italia in particolare, l'Italia meridionale in particolare, siamo stati attraversati da popolazioni provenienti da quasi tutto il mondo e che hanno lasciato qualcosa, si sono prese qualcosa e tutto questo ha fatto il genio della nostra cultura, la bellezza della nostra cultura. Non è nella sua rigidità identitaria ma è nel fatto di essere stata capace di inglobare influssi da tante altre culture del mondo o persone del mondo e questo deve servire come monito per il nostro futuro. Guai a pensare di chiuderci nelle identità. Le identità chiuse, rigide, sono identità che portano alle guerre, che portano al sangue, portano alla distruzione nostra e degli altri. Le identità devono essere aperte, aperte a suggestioni che certo devono essere elaborate dalla comunità, non imposte dall'esterno, elaborate creativamente dalla comunità sulla base di un dialogo intergenerazionale ed anche con i nuovi flussi di popolazione che vengono dal resto del mondo. Guardi, io come antropologo e in passato studioso delle tradizioni popolari, le posso dire che quasi tutti i luoghi dove sono andato a studiare un evento, una tradizione, ho trovato persone che dicono che la loro tradizione è un unicum. Se andate a Pagani vi dicono la stessa cosa per la Madonna delle Galline, se andate a Sarno le stesse cose. L'unicum c'è, ma non è l'unicum che noi immaginiamo come più forte, più importante di altrove, non come se qui il sentimento devozionale per il santo sia più forte di quello che provano lì o lì non in questo senso. Nel senso che l'unicum qui è stato il tipo di sintesi che nei secoli gli altavillesi hanno compiuto sulla base di influssi che venivano da tutto il resto, dagli altri paesi, dalle altre realtà e che però si fermavano qui e qui hanno trovato quel tipo di cristallizzazione che fa la devozione degli altavillesi. Il genio degli altavillesi non è nel fatto che la sua devozione è più alta che altrove, ma che questa è specifica di altaville. Questa festa, se vuoi vedere questa festa, solo qui la puoi vedere. Poi puoi vedere tante altre feste, altrettanto forti, sentite dalla popolazione, ma non saranno questa festa. Ogni località ha il genio della sintesi, del meticciamento che riesce a creare quella originalità. Sembra quasi un paradosso. L'originalità è nella capacità di essere sanamente, sanamente medici. A seconda di quel movimento che fa, le sue compagnie capiscono dove...